Sì, voglio il pronostico per la domenica Juventus-Inter 2 a 1 2 a 1? Per l'Inter No, no Per la mitica e magica Juventus Sempre Grande Stefano Passiamo dal campione del mondo 2006 Pronostico 2 a 0 Inter 2 a 0 Juve Blaovic Chiesa Perfetto Forza Juve E da Grazie a tutti